Bianconeri, sulle gente! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Napoli, undicesima giornata di campionato, sabato 29 ottobre, ore 20 e 45. Viaggio di andata e ritorno, più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve, fino alla fine!